Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, bentornata Anna Foa, storica e saggista. Buonasera Tina Gesmundo, preside del liceo Salvebini di Bari. Buonasera Beppe Severnini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Pino Corrias, giornalista e scrittore. Buonasera Massimiliano Tarantino, direttore della Fondazione Feltrinelli. Allora, ripartiremo subito dopo la pubblicità da Giorgia Meloni, e quello che ha detto su Netanyahu e molte altre cose ancora. Pino Corrias, allora dopo 24 ore ha parlato anche Giorgia Meloni sul mandato di arresto per Netanyahu, l'ex ministro Gallant e il leader di Hamas. La Presidente del Consiglio ha detto che approfondirà e ha aggiunto che non ci può essere una equivalenza tra Israele e l'organizzazione terroristica di Hamas. Poco fa il portavoce, uno dei portavoce della Commissione Europea, ha precisato che tutti i 27 stati dell'Unione Europea hanno l'obbligo di eseguire i mandati di arresto e che viene rispettata l'indipendenza e l'imparzialità della Corte Penale Europea. Ora, siccome Crosetto ieri aveva parlato esplicitamente del fatto che se Netanyahu viene in Italia viene arrestato, mentre Giorgia Meloni si è ben guardata dal fare alcun riferimento a tutto questo. Quindi la Meloni semplicemente si schiera con Netanyahu o in qualche modo contraddice il suo ministro della difesa? Lo scopriremo. Giorgia Meloni fa ginnastica di equivalenza su tutte le questioni internazionali sempre, quindi si tiene molto. Però prima di tutto dovrebbe mettersi d'accordo con la propria maggioranza. Crosetto ha detto sì, se Netanyahu venisse in Italia lo arresteremo, l'ha detto torto collo. Salvini ha detto il contrario, ha detto che Netanyahu sarebbe il benvenuto. Tajani, come quasi sempre, ha detto forse sì, forse no, vedremo. E quindi si vedrà. Ma il problema, cioè la frase che aggiunge la Meloni, l'equivalenza tra Israele e Hamas, non è la questione sollevata dalla Corte Internazionale, la questione è se c'è equivalenza tra 1200 israeliani, uomini, donne e bambini massacrati da Hamas il 7 ottobre e 44.000 uomini, donne e bambini bombardati e uccisi a Gaza in questo anno di guerra, se c'è questa equivalenza oppure no. e loro su quello lavorano, non è che lavorano sul chiacchiere. Allora ci sarà un'indagine, noi abbiamo costruito la Corte Internazionale Criminale, ci mancherebbe che non applicassimo le sue disposizioni. Vediamo, Beppe Severnini, tu hai capito la posizione, sta in questi termini, come ha detto Pino Corrias, che il problema è l'equivalenza tra i morti israeliani vittime del massacro di Hamas oppure dei 44.000 palestinesi uccisi finora a Gaza. Ma a me sembra che la reazione italiana, avete riassunto bene, siano state comprensibili visti i personaggi. Matteo Salvini, che è diventato il leader di estrema destra di un partito, la Lega, che non è di estrema destra, ve la dico dal nord, i leghisti non la pensano come lui, si schiera con l'estrema destra israeliana, che ha fatto le cose che vediamo, perché oltre alla strage a Gaza è evidente che sta pensando di tenersi la parte nord della striscia di Gaza e ci sono stati dei ministri che addirittura hanno detto ci pigliamo la Giudea, la Samaria, quindi i territori occupati. Quindi, quello che io ho visto, Crosetto ha dato la risposta giusta, se la Corte Penale Internazionale ha deciso così, lui viene in Italia e dovrà venire arrestato. Quello che ho sentito nelle parole di Giorgio Meloni era l'imbarazzo, secondo me, che è anche l'imbarazzo, diciamo, di molti italiani, davanti a quello che sta succedendo, non tanto a questa sentenza, perché l'Italia, l'ho già detto molte volte, anche qui non c'è dubbio, Israele, con tutti i pasticci che ha combinato ultimamente, anzi i disastri, è una democrazia, i rapporti nostri con Israele non sono i nostri rapporti con Hamas. Quindi, se uno Stato, che noi consideriamo uno Stato amico, commette queste atrocità, purtroppo bisogna dirlo e prendere atto che è arrivata una condanna. Quindi, la questione mi sembra relativamente semplice. Tutto qua. Anche lei trova che la questione sia relativamente semplice, professoressa Foa, anche perché, appunto, da Trump al presidente ungherese Orban, a Salvini, diciamo che le destre più estreme si schierano senza se e senza ma con Netanyahu e si scagliano contro la Corte Penale Internazionale. Lei ha capito, invece, Meloni? Sì, certamente. Quello che ha detto Meloni sembra quasi anche un tentativo di entrare nel merito della discussione, cioè entrare nel merito di quelle che sono le decisioni giuridiche della Corte Penale Internazionale. Qui si tratta di vedere se quello che ha fatto Israele è o no un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità. Siccome la Corte Penale Internazionale ha detto che questo è così, allora ha emesso un mandato di cattura, dopodiché ci dovrà essere un giudizio. Ma nel frattempo c'è questo mandato di cattura che nessun paese dell'Unione Europea può rifiutare sostanzialmente. non è possibile, è una cosa che va contro tutto. Io credo però anche che qui ci sia un'altra cosa pesante per tutti, non solo per i palestinesi e non solo in genere per i paesi in cui c'è una guerra, cioè una sorta di delegittimazione di qualunque organismo internazionale. Tutto quello che è stato fatto dopo il 1945 sul piano delle corti di giustizia internazionali, delle corti penali, dell'accusare chi colpisce i civili e quindi tutto un diritto internazionale viene ora rimesso in discussione da Netanyahu per primo, ma non solo. E questo è anche un grosso problema che accomuna peraltro tutte le destre, destre e destre, dottor Tarantino, cioè che c'è una delegittimazione di ogni organismo internazionale e la Meloni cerca di pattinare perché non vuole che Salvini per l'ennesima volta la scavalchi alla sua destra? Mi colpisce della dichiarazione di Crosetto la premessa a se Netanyahu venisse in Italia dovrebbe essere arrestato e cioè anche se non sono d'accordo con la sentenza. Che non la condivide. Che non la condivide. Io posso essere individualmente d'accordo o non d'accordo, politicamente d'accordo o non d'accordo, ma non posso far prevalere le ragioni politiche sulle ragioni del Tribunale. Allora se sono parte e l'abbiamo fondato ed è non solo di quel Tribunale ma dell'assetto internazionale lo devo rispettare, promuovere istituzionalmente. Qui però c'è un dato. Si contesta, come è stato detto a livello globale, si contesta questo assetto ma non si ha in mente una sostituzione. È come se si volesse andare oltre e si volesse anche prendere l'incasso del consenso, del distruggere quello che c'è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale senza però avere in mente qualcosa di sostitutivo. Allora c'è il progetto della Costituzione della Terra, c'è un progetto quasi utopico di dare alla pace una legge, di dare al rapporto tra individui e natura un futuro. Ma sembra che questo sia non solo un'utopia nel realizzarsi ma anche nel generare consenso e sia molto più seduttivo la guerra, la distruzione impunita e il non rispettare le leggi. E il non rispettare le leggi. Volevo solo aggiungere che è proprio un portato della destra questa, l'idea che ce la caviamo da soli in ordine sparso. È l'idea di Trump, è l'idea di Orban ed è anche l'idea del sovranismo in generale e che le relazioni e i lacci e le intermediazioni tra i paesi sono un intralcio e non sono mai una soluzione. Professoressa Foa è un portato della destra questo di dire ce la caviamo da soli e se ci professiamo tanto nazionalisti tanto sovranisti è chiaro che non si può accettare che ci siano degli organismi sovranazionali che però hanno garantito la pace diciamo in Occidente negli ultimi 70 anni. Beh, certamente è un portato delle destre finora la sinistra e le sinistre in generale a livello internazionale avevano appoggiato fortemente e continuano a farlo l'esistenza di organismi sovranazionali. Qui siamo di fronte al sovranismo di vario tipo americano ma anche israeliano o comunque chiamiamolo sopra quello che viene chiamato in Israele sovranismo ebraico siamo di fronte a nuovi nazionalismi che crescono ed è evidente che qui gli organismi internazionali e una giustizia sovranazionale può solo intralciare quelli che sono i desideri di fare come si vuole e cioè per esempio sterminare 40.000 oltre abitanti di Gaza per la maggior parte civili. Professoressa Gesmundo ovviamente anche nel suo liceo che lei presiede la guerra entra come tema e quindi ne parlerete e ne parlate anche con i ragazzi dice il dottor Tarantino che c'è questo consenso nel distruggere e questo evidentemente porta anche molto consenso ora siccome per distruggere bisogna utilizzare anche le parole giuste le parole adeguate e noi vediamo che nella nostra politica nel discorso pubblico le parole diventano sempre più divisive più aggressive che impatto ha tutto questo sui ragazzi e sulle loro famiglie? L'aggressività del linguaggio percorre tutte le generazioni dei piccoli dai piccoli dagli adolescenti a quelli poi più grandi noi ravvisiamo nella scuola un distacco però dal linguaggio della politica e dalla politica in generale c'è un noiato tra loro tra i giovanissimi e i giovani e tutte le questioni che riguardano la politica questo è un problema e proprio la scuola con lo studio della storia con il peso che si dà alle parole con un progressivo lavoro di costruzione della personalità culturale che deve far sì che il linguaggio abbia perda il becero senso dell'aggressione dell'aggressione che poi loro realizzano nel branco o nei messaggi di whatsapp o su tiktok la scuola deve far sì che il linguaggio acquisti un peso un peso politico in senso buono aggiungo anche che il sistema valoriale che è piuttosto in difficoltà in questo momento richiede proprio che la scuola e torno lì costruisca il patrimonio delle parole e dia il senso di quello che i ragazzi leggono o dovrebbero leggere perché i ragazzi seguono molto poco il discorso politico sia quello civile più democratico sia quello più aggressivamente becero Pino Corrias la professoressa Gesmundo è finita nelle ultime 48 ore su tutti i social sui siti di informazione insomma i media si sono molto occupati di lei perché ha fatto scalpore un discorso che la professoressa ha fatto ai genitori nel giorno dell'open day perché i ragazzi come sapete che devono poi scegliere quale tipo di liceo dove andare a fare le scuole superiori e ha detto la professoressa non centrano i social centrate voi rivolgendosi ai genitori centrate voi che sovrapponete i vostri desiderata alle vite dei vostri figli ed educate a coltivare solo il mito del successo e del denaro poi la professoressa ha raccontato anche di ragazzi che fotografano minacciosi le macchine dei professori di assessori che chiedono raccomandazioni per i figli insomma perché è così è stato così dirompente questo discorso ma intanto perché la preside la professoressa ha svelato l'egemonia culturale della destra che marcia dentro questo paese dai tempi ma perché i miti del successo dei soldi dell'aggressività sono valori che vengono cavalcati dalla destra e sono non dico dominanti però sono irruenti nel tessuto della società e dopo di che ha svelato un'altra verità che è sempre più conclamata e cioè che la generazione dei genitori di adesso cresciuti forse malamente per cause delle generazioni precedenti sono pervasivi sono non autoritari ma si sovrappongono alle vite dei propri figli li vogliono governare e vogliono per loro il successo sono super protettivi un tempo i genitori quando avevano il figlio bocciato chiamavano negli anni scorsi si rivolgevano persino al TAR adesso vanno direttamente come è accaduto in alcune scuole e come sta accadendo che è un corrispettivo nei pronto soccorsi degli ospedali a risolvere la questione così assaltando assaltando le persone assaltando gli infermieri minacciando i professori quindi c'è questa diagonale che io leggo sarà contenta Giorgia Meloni come egemonia culturale della destra italiana è così professoressa Gesmundo lei condivide questa analisi di Corrias la leggemonia della destra non so se sia così certo non li educhiamo a dei valori profondi che sono quelli del non voglio dire del sacrificio sarebbe sueta ma perlomeno del poter cadere sbucciarci le ginocchia e poi rialzarci e combattere invece stiamo intanto creando una generazione di iperprotetti non parliamo di quante diagnosi di patologie di vario tipo noi dobbiamo accogliere perché in ogni maniera dobbiamo dargli un percorso privilegiato una volta questo non esisteva la crescita curava c'era una crescita che realizzava le persone professoressa la posso interrompere perché come hanno reagito i genitori a questo suo discorso così duro nei loro confronti allora hanno reagito quel giorno io ero un po' urtata già da un atteggiamento iniziale sono entrati a scuola senza dire buongiorno con proprio l'atteggiamento di chi venisse o in uno zoo a vedere degli animali strani oppure a comprare un prodotto questo mi ha indisposta devo dirlo e poi nei giorni precedenti ormai da settembre io risolvo problemi legati alle fragilità non tanto dei ragazzi ma dei genitori al fatto che vengano a prelevarli a tutte le ore che telefonino o messaggino con i coordinatori a tutte le ore e che non accettino una insufficienza nemmeno da un ragazzino che ha l'inizio del suo percorso scolastico oltre al fatto che io devo proteggere i docenti nella loro grande dignità e nel loro lavoro quindi è evidente che quel giorno sono stata anche un po' iperbolica un po' come dire ho parlato per metafore ero anche ironica tutto questo no no ho avuto anche ho ricevuto anche applausi a scena aperta perché in realtà poi c'era una mimica c'era un appeal in quello che dicevo se le sono fatte dire però io non mi aspettavo onestamente questa reazione cioè non mi aspettavo questa iper attenzione mediatica perché per me è normale dire ad un genitore prima di scrivere un ragazzo in un indirizzo di scuola tu ascoltalo cioè vedi lo vuole veramente stiamo costruendo un cittadino ma questo cittadino desidera frequentare questo tipo di scuola o glielo sta imponendo ecco è quello che quindi ha aperto un vaso di Pandora Beppe Severnidis come tu ti occupi spesso e da tanti anni di scuola di giovani è colpa delle famiglie o di o di cos'altro allora io non sono un esperto però se non avessi fatto il giornalista avrei fatto l'insegnante perché è lavoro un lavoro affascinante e nelle scuole vado spesso in tutta Italia da anni appena posso vado in una scuola sto con i ragazzi è chiaro che se vai una volta è più facile perché noi siamo lo zio eccentrico che viene una volta e per noi è facile voi dove siete i genitori dovete educarli e io ho visto ho dei figli i nipoti io ho visto di tutto ho visto tanti genitori incoscienti e la descrizione della professoressa mi trova d'accordo perché ne ho visti tanti e l'ho saputo anche qualche insegnante incapace quindi bisogna stare molto attenti a generalizzare io quando sento in televisione qualcuno che si siede dice le famiglie è un disastro dipende io però mi fido della professoressa che è lì e dico questo a me ha colpito io ho letto l'intervista professoressa che lei ha fatto al Corriere del Mezzogiorno io sono al Corriere della Sera in questo momento al Corriere del Mezzogiorno quindi la nostra edizione a Bari in cui ha detto io sto ricevendo telefonate da assessori che mi dicono che arriverà un genitore a parlarmi dei figli io so che lei non lo può fare qui in televisione però la tentazione di chiederle ma chi sono queste persone perché qualche volta non vi dite chi sono questi genitori queste persone perché a questi ragazzi che lei ha parlato di bullismo insulti per body shaming quindi magari una compagna che è un po' più soprappeso sotto non lo so cosa terribile perché non gli date esiste una legge hanno fatto una legge nuova a settembre perché non gli date sette incondotte e poi aspettate i genitori suo figlio ha fatto questo 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 e lei non provi a difenderlo perché altrimenti professoressa qui i governi continuano a fare leggi voi giustamente vi lamentate là fuori ci sono delle famiglie alcune non capiscono niente alcune non sanno cosa fare però i voti in condotta per esempio ci sono perché non li usa mi perdoni professoressa li usiamo li usiamo noi mettiamo nella mia scuola mettiamo spesso i sette incondotta che però non hanno più il valore di una volta chiamiamo i genitori io do servizi socialmente utili ai ragazzi perché la sospensione non serve il provvedimento disciplinare deve avere un valore educativo esemplare lo facciamo l'iperbole dell'assessore del sacerdote è perché è un continuo proteggerli io ho una mail pubblica istituzionale do appuntamenti a chiunque non c'è bisogno non ho bisogno di vie laterali per arrivare a me era però vi assicuro al di là degli assessori delle persone di potere volevo dire volevo dire persone di potere la scuola sta provvedendo non ci voleva il ministro Valditara per dirci che il voto di condotta è un voto complessivo è un voto che pesa è un voto che deve pesare della difesa della scuola non per punizione ma per educazione parole nette chiare ma poi credo che ci sia anche il problema che prima era inferiore dell'uso dei social nel senso che prima le classi degli studenti diventavano una cosa sola nel corso adesso diventano una cosa sola i genitori perché si parlano in continuazione si raccontano cose si inventano situazioni difamano una persona ne attaccano un'altra fanno le coalizioni danno i voti ai professori danno i voti ai professori ora questa comunità di genitori che viene addensata dai social che tutti usano probabilmente è una bomba orologeria perché poi determina le insurrezioni dei genitori le divisioni i litigi e poi si rivelano una frase sola perdonami non interrompo mai ma devo farlo dico una frase le chat scolastiche andrebbero vietate per legge perché sono una cosa deleteria deleteria non si può fare naturalmente ma io le chat scolastiche cominciare da elementari spaventose e là fuori ci stanno ascoltando e sanno che ho ragione vedo che la professoressa Foa annuisce ma voglio prima perché introduco questo integro con questo altro elemento dottor Tarantino perché diciamo insegnare gestire i giovani e i loro problemi il sistema valoriale che è sempre più in difficoltà come ci diceva prima la professoressa in tempi di populismo montante e quindi di un linguaggio pubblico sempre più aggressivo sempre più volgare che non può non avere alla fine anche un impatto sulla convivenza civile e dove arriveremo come se ne esce se ne esce reagendo non subendo e la professoressa dà l'esempio ed è l'esempio che la provocazione che ha fatto Pino Corrias deve rimanere una provocazione non è la controcultura di destra montante o se lo fosse deve chiamare le professoresse ma aggiungo anche i ragazzi e le ragazze che nella stragrande maggioranza dei casi sono meglio dei loro genitori che riversano su di loro non solo le loro aspettative ma anche le loro fragilità perché si parla tanto delle fragilità delle giovani generazioni ma il sistema nel quale gli adulti hanno vissuto negli ultimi 30 anni li hanno indeboliti al punto da non rispettare le autorità e come si diceva prima se ancora le autorità di governo sono le prime a picconare il sistema istituzionale che loro stesse sono chiamate a tutelare si dà la stura al peggio ecco a questa reazione bisogna a questa azione bisogna reagire con la cultura bisogna reagire con una formazione innovativa bisogna venire incontro all'individualità di ogni singolo studente e studentessa e non uniformare su dei modelli come ahimè purtroppo anche questo governo sta più volte facendo ma di che modelli stiamo parlando? Siamo in un mondo globalizzato ipercompetitivo lasciamo fiorire lasciamo crescere in una fioritura armonica questi ragazzi e queste ragazze ma sul principio che la diversità non è un ostacolo ma è il sale della nostra convivenza e questo professore Saffoa è un concetto di questi tempi non molto popolare diciamo far fiorire rispettare le diversità come se ne esce? ma guardi io credo che non se ne esca solo con la repressione o con il 7 in condotta nonostante tutto ma questo non viene fatto solo la scuola non fa solo quello certamente credo che sia molto difficile educare i genitori soprattutto una generazione abituata appunto a non avere valori a una perdita completa di valori in questo momento si si può provare ma è molto difficile educare ci vogliono dei tempi lunghi e non li abbiamo perché poi questi ragazzi crescono e escono dalla scuola io penso che forse rovesciando un po' la situazione e riattribuendo maggiore non solo valore ma anche valore culturale un mondo che non considera la cultura un valore ecco riattribuendo un gran valore culturale ai professori ai docenti non solo questione di rispetto ma anche questione di fascino anche questione che le cose che loro dicono che loro fanno con i ragazzi devono conquistarli devono affascinarli perché io vedo che quando ci sono dei docenti estremamente bravi o innovativi o che riescono a introdurre un rapporto di di affascinazione forse eccessivo ma esiste questo rapporto nella docenza io ho insegnato all'università per 40 anni e lo so che esiste questo rapporto ecco a quel punto cioè ridare non prestigio ma un prestigio culturale ai docenti forse è una delle strade una delle strade da percorrere anche forse qualche soldino in più e anche assolutamente avere degli stipendi decenti ma forse poi questi genitori sconclusionati sono anche quelli che per metà stanno a casa durante le elezioni abbiamo il 50% dell'astensionismo quindi vuol dire che tutta questa massa di genitori che dovrebbero partecipare alla vita comune se ne stanno a casa e soprattutto specialmente se ne stanno a casa aizzando i figli a fare come loro ecco per fortuna non tutti sono così e per fortuna ci sono iniziative come quelle della fondazione Feltrinelli voi date un grande contributo alla diffusione della cultura di valori e l'ultimo libro che adesso pubblicate si chiama Tutti i colori del rosso che è un viaggio nella storia della sinistra per ritrovare l'orgoglio dell'alternativa scritto da Gabriele Santoro e lei ha scritto l'introduzione quindi siccome sarà disponibile da martedì prossimo si può già prenotare online da oggi ecco tanto per capire ricordare conoscere sempre questo ci fa sempre ci fa sempre bene e come ci fa bene il punto di Paolo Pagliaro che ci fa tornare a Giorgia Meloni che ha parlato oggi all'Assemblea del Lanci le ultime elezioni regionali sono state vinte da tre sindaci in Liguria da Marco Bucci sindaco di Genova in Emilia Romagna da Michele De Pascale sindaco di Ravenna e in Umbria da Stefania Proietti sindaca di Assisi e ai sindaci che la politica si rivolge per ritrovare un legame con elettori sempre più disaffezionati è una popolarità che si ostina a resistere nonostante il tracollo degli indici di fiducia nei confronti delle istituzioni chi ha seguito i lavori dell'Assemblea del Lanci conclusasi oggi a Torino ha raccolto testimonianze di prima mano sull'impegno dei comuni per la manutenzione quotidiana della democrazia sulla qualità degli interventi in ambiti come la sicurezza e l'integrazione l'assistenza sociale la digitalizzazione dei servizi la transizione energetica la sanità il superamento dei divari territoriali ha sentito i sindaci dei piccoli comuni alle prese con il dramma dello spopolamento e quelli delle grandi città alle prese con gli stravolgimenti ambientali sociali ed economici causati dal sovraffollamento turistico che fino a ieri era un problema e adesso è un'emergenza a Torino il capo dello Stato ha detto che i comuni sono uno snodo di programmazione e di rilancio dell'intero sistema paese ma è un ruolo che il Parlamento fatica a riconoscere Gaetano Manfredi sindaco di Napoli e nuovo presidente del Lanci ha ricordato gli oltre 8 miliardi di tagli ai programmi pluriennali di investimento e la nuova legge di bilancio che l'anno prossimo per ogni 4 dipendenti che andranno in pensione consentirà di sostituirne solo 3 una beffa per amministrazioni chiamate a realizzare il PNRR è in difficoltà per la mancanza di personale siamo in chiusura grazie professoressa Gesmundo e naturalmente buon lavoro visto che è un lavoro così difficile grazie professoressa Foa ricordo il suo nuovo libro pubblicato con la terza che si intitola il suicidio di Israele grazie Beppe Severnini ricordo il tuo ultimo libro librone in questo caso pubblicato da Rizzolli Inter il nuovo secolo e grazie grazie dottor Tarantino grazie perché la fondazione Feltrinelli ha pubblicato questo nuovo libro tutti i colori del rosso scritto da Gabriele Santoro lei ne ha scritto la prefazione e grazie Pino Corvias grazie spettatori Linea Diego Bianca su Propaganda Live e noi come sempre lunedì 8 e mezzo arrivederci grazie 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 grazie